ben ritrovati amici del portapenne per questo nuovo appuntamento nel quale ancora una volta prenderemo in considerazione un oggetto che impreziosisce allieta il nostro tempo e può dare lustro a questo angolino che tutti noi appassionati ci ritagliamo il nostro scrittoio più o meno bello modesto sfarzoso quello che volete insomma parliamo tra amici tra persone che hanno una comune passione vedete già tra le braccia del nostro ormai fedele cavaliere lo strumento di scrittura di cui vi parlerò oggi parliamo di un prodotto italiano un orgoglio del made in italy parliamo di una penna stilografica in particolare di una penna stilografica a marchio montegrappa vedete inciso qui sulla veretta di questa penna di cui vi parlo ora ed è una delle penne ingresso gamma del marchio elmo e montegrappa perché sebbene sia commercializzata con marchio montegrappa l'azienda che li produce si chiama ancora oggi elmo e montegrappa questo è un dettaglio non da poco perché ha diretta relazione con la penna che ho tra le mani di cui parleremo parleremo oggi diciamo che questa penna fa parte di dell'ingresso gamma però è necessario collocare nel tempo qualche cenno storico per capire perché si chiama in questa maniera perché elmo che perché l'azienda si chiama elmo e montegrappa ebbè dobbiamo sapere tutti che dal 1920 al 1928 il cofondatore dello stabilimento di bassano del grappa e soprattutto tecnico di produzione in quel periodo era il signor airich helm tedesco e italianizzato questo cognome helm divenne elmo facilmente intuibile quindi riprendendo i modelli dell'epoca il design dei modelli che vero successo in quel periodo parliamo quindi del periodo tra gli anni 1920 1930 dove si c'erano delle persone abbienti ma la maggior parte delle persone non avevano grandi possibilità l'azienda si doveva un po come tutte le aziende ingegnare per coniugare lo stile la bontà del prodotto con le esigenze compatibili con la recettività del mercato e in questo airich helm ebbe un grandissimo ruolo a questo si rifanno i modelli oggi in produzione che riprendono un po quei modelli degli anni venti partire dal modello elmo 01 molto diciamo lineare con pochi fronzoli che risente veramente molto per esempio dell'influenza che la cito spesso ma insomma è inevitabile quando si parla di design anche se applicato ai nostri strumenti la scuola tedesca debba house che coniugava il concetto di forma e funzione quindi essenzialità nella forma massima funzionalità ecco la elmo 01 che è una bellissima penna ma diciamo ingresso gamma viene subito dopo la linea armonia è una penna molto molto essenziale ea lui a questo airich helm viene dedicata questa penna quella che ho tra le mani è la elmo 02 quindi è una penna se vogliamo un pochino più ricercata meno essenziale un po più penna forse sotto certi aspetti senza nulla a togliere la penna elmo 01 che è molto bella mi piace molto questa è un pochino più ricercata diciamo che si pone un gradino sotto la montegrappa mia di cui non vi posso parlare perché non ce l'ho allora parliamo di quello che ovviamente abbiamo tra le mani la versione che vi sto facendo vedere vi sto mostrando in questo mix di colori come con il fondo diciamo blu azzurro intenso e denominate a sorapis con una s sola poiché è costume della montegrappa ispirare il nome di molti suoi modelli a delle realtà geografiche locali è molto probabile pur non essendo dichiarato io ho guardato anche il sito ma non se ne parla che la montegrappa si sia ispirato al lago di sorapis con due s che è un lago alpino delle dolomiti che si trova quasi 2000 metri di altezza in provincia di belluno ed è un lago che ovviamente per l'altitudine per la collocazione orografica e geografica e quant'altro nelle giornate limpide rispecchia i colori del cielo di alta montagna fornendo evidentemente questo miscuglio di colori che deve aver ispirato montegrappa nella creazione di questa resina ovviamente queste resine miscelate rendono questi pezzi unici perché non esiste una penna uguale ad un'altra questo è importante saperlo perché queste miscelazioni si vedono proprio adesso magari provo ad avvicinare un po' queste amalgame non possono essere ripetute in maniera perfetta e la cosa è voluta perché comunque rende ogni pezzo unico nel suo genere non ci sarà mai una penna con questo tipo di di resina pregiata che sia uguale esattamente ad un'altra ma veniamo alle caratteristiche principali della nostra elmo 02 intanto c'è da dire che è una penna che mentre la e01 come dicevo si ispira molto al design tedesco lanciato dal Bauhaus la 02 è forse un po' più art deco lo capiamo da alcuni dettagli per esempio la parte della canna verso verso il fondello va a stremarsi un po' soprattutto la clip adesso ve lo avvicino un po' la possiate vedere nella sua grande essenzialità riprende un po' la forma di una fusiaca vedete è in ottone scanalato con queste righettine che vedete e spezzato in mezzo da questi freggi orizzontali quindi è molto raffinata sebbene non appariscente airy helm lavorò su questi modelli all'epoca chiaramente non su questo ma su quei modelli che ispirano l'attuale produzione della linea elmo in quanto diciamo erano modelli quasi del tutto privi di minuterie metalliche per contenere i costi e prezzo delle lavorazioni perché ricordiamoci ancora oggi queste sono lavorazioni fatte in maniera artigianale non so se questo possa giustificare la collocazione molto alta del listino a montegrappa a partire anche dai modelli base rispetto ad altri marchi ma comunque bisogna dare atto che questa sono penne lavorate ancora a mano per quello che è possibile al di là di torti che possono sicuramente saranno a controllo numerico quindi a gestione elettronica però insomma tutto quello che è l'innesto delle minuterie quant'altro nella finitura avviene a mano la penna ha un cappuccio a vite ma anche all'interno qui non si vede un contro cappuccio per poter mantenere il pennino il gruppo scrittura l'alimentatore a quanto più umidi possibili ecco chiostro diciamo quasi sempre disponibile anche dopo settimane di inutilizzo deponiamo un attimo il cappuccio torniamo torniamo un attimo la nostra penna la filettatura sono due giri di due o tre giri di vite la filettatura è molto curata non si sente niente non una bava nessun fastidio nell'impugnarla e anche questo va detto va apprezzato perché comunque significa che c'è cura anche in un prodotto di fascia bassa nella propria gamma ripeto quando parliamo di fascia bassa non significa un prodotto che costa poco che se andiamo a vedere il destino qui siamo diciamo 270 mi sembra 280 euro poi bisogna essere bravi lo dico sempre ad acquistare le condizioni buone perché si trovano ovunque però diciamo che è una penna che si colloca lì nel listino monte grappa pur essendo nella parte bassa del listino non costa proprio poco stiamo parlando naturalmente di una penna con un bel pennino in acciaio non d'oro questo è ancora di produzione bocca però guardate come viene personalizzato in maniera molto molto elegante quasi preziosa si vede la scritta si vede la scritta italia non itali italia e qui sotto la sezione di pugnatura la gradazione penino che è un m penino medio diamo un'occhiata l'avrete già intravisto al di là dell'inchiostro che lo sporca ma si capisce da questa rifrazione dei colori che questo non è un pennino in abs è un pennino in ebanite ecco sulle proprietà delle banite penso che molti di voi sappiano già di cosa stiamo parlando è un conduttore che veniva usata anche diciamo il secolo scorso che ha ottime proprietà di conduzione quindi diciamo la produzione elmo montegrappa così come l'altro marchio detenuto dal gruppo latibaldi forniscono sempre il conduttore in ebanite non va sottovalutato perché la maggior parte dei produttori che montano di serie a conduttori in ebanite di solito se lo fan pagare a caro prezzo giusto per una nota di cronaca anche il top di gamma della della pelican diciamo le 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 m 600 le m 800 le m 1000 hanno conduttori in abs che funziona benissimo sia chiaro però diciamo che è molto più economico produrre un conduttore in abs che un in ebanite questo banalmente torniamo le caratteristiche della nostra montegrappa elmo 02 abbiamo detto che è una penna che si sente bene in mano non è per niente pesante perché con il cappuccio chiuso parliamo di 30 grammi quindi insomma potete capire che non è che sia pesante però parte dal presupposto che io come moltissimi altri non scriviamo con il cappuccio postato che si posta comunque senza difficoltà e rimane lì senza traballamenti e anche questo un dettaglio di precisione che va apprezzato è una penna comunque abbastanza cicciotta non è una penna da firma ma non è una slim ecco se amate le penne slim questa non sarà probabilmente la vostra penna preferita diamo un'occhiata a come è fatta la giunzione tra sezione di alimentazione e la canna beh innanzitutto avrete visto qui c'è un ottone con filetto metallico e c'è diciamo la controboccola filettata in ottone innestata dentro la resina quindi capiamo bene che la solidità di questo gruppo è garantita da metallo su metallo sappiamo bene che non tutti i produttori anche di fascia media o alta adottano questo stesso sistema di giunzione tra le due parti del corpo scrivente un'occhiata ovviamente l'avete visto l'alimentazione avviene attraverso cartuccia converter in formato standard ovviamente stiamo parlando di non faccio vedere un converter un convertitore personalizzato montegrappa ed è anche smontabile per la corretta pulizia ecco questo ve lo voglio dire guardate un'altra particolarità che non va banalizzata il convertitore nel tratto terminale dove appena sotto l'innesto nel conduttore è filettato questo garantisce che per nessun motivo questo abbia dei movimento oscillatorio faccia perdere inchiostro durante la scrittura durante il deposito della penna nel nostro porta penne questo è un altro particolare che aggiunge qualità a questo progetto quindi è una penna a buon mercato no si può comprare a prezzi competitivi sì ma bisogna stare attenti dove dove le vendono è una penna che che vale i soldi che costa sicuramente non so dire se valga tutti i soldi che costa ma sicuramente è una delle penne fatte veramente bene lo si capisce da questi piccoli dettagli come scrive questa penna andiamo a fare una breve prova e per farlo utilizzeremo un book notebook libretto della peter popper press questa azienda che è come dice anche l'etichetta applicata dietro presente dal 1928 un cenno su questo prodotto peter popper press nasce in un periodo storico negli stati uniti 1928 in cui ci fu praticamente una grande depressione quindi dichiaratamente il fondatore di questa casa aveva l'obiettivo di rendere disponibili a maggior numero di persone dei prodotti per la scrittura ad un prezzo economico quindi diciamo per i poveri nel senso letterale del termine oggi peter popper press fornisce degli ottimi notebook veramente ben fatti con copertine lavorate tipo a libro diciamo sul modello del paper blanks ha dei prezzi molto vantaggiosi senza sacrificare necessariamente la qualità rispetto al competitor principale appena citato qui parliamo di un formato a 5 con 160 pagine mi sembra da 120 grammi quindi sicuramente a prova a prova di di stilografica vado proprio a utilizzare sotto ecco il retro di una pagina già scritta così vedete che insomma non stiamo parlando di una carta che sanguina allora stiamo intanto siamo sul canale io ringrazio i nuovi iscritti ma soprattutto gli iscritti storici che continuano a seguire il canale con fedeltà e commentano lasciano le proprie impressioni che possono concordare o meno però è sempre bello avere uno scambio lo dico sempre quindi un saluto caro a tutti voi siamo sul canale youtube il portapenne ci stiamo occupando della montegrappa elmo 02 sorapis con una s così lo scrive sul sito la elmo montegrappa penino in acciaio versione m allora il tratto è decisamente generoso quindi è un m europeo abbondante fluido qui è stato equipaggiato questo questo diciamo converter equipaggiato con un turchese della roire e quindi un prodotto diciamo di buona qualità senza andare su quotazioni di prezzo eccessive il prodotto è estremamente fluido il pennino bock lavora benissimo in tutte le direzioni senza nessuna incertezza è rigido quindi non aspettiamoci grandi variazioni e molto rigido è veramente stavo dicendo molto rigido variazioni minime quindi non prendete questo tipo di pennino se vi interessa avere qualche 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 possibilità di variare di corsivo italico ecco è una penna che scrive decisamente bene ovviamente se sceglierete dovreste scegliere un pennino fine aspettatevi o extra fine aspettatevi un chiodo ecco perché di quello parliamo però è una penna che per esigenze moderne va molto molto bene ci sono vari colori disponibili questa è la elmo 02 mi auguro che possiate valutare anche voi questo articolo secondo me è una bella penna ad un prezzo tutto sommato giusto se lo comprate stando attenti ad eventuali promozioni nel negozio fisico preferibilmente o in seconda battuta sul web io vi ringrazio niente se non lo avete ancora fatto mettete un like sottoscrivete l'iscrizione a youtube non costa niente a noi farà solo piacere avervi ospiti tutte le volte che metteremo online un altro approfondimento sul nostro scrittoio il nostro porta penne ciao amici alla prossima occasione